Sono un po' colpito da delle cose che non vengono messe minimamente in discussione e mi riferisco per esempio alle leggi del mercato, ci dobbiamo affidare alle leggi del mercato, ma è una buona cosa? È veramente una legge quella del mercato? Che riflessione possiamo fare? Allora, partirei se me lo consenti Alviano da un vecchio messaggio del mio padre spirituale Eugenio Siragusa, un messaggio di molti anni fa, del 1982, pensa un po', lo leggo in parte nella parte che più ci interessa, il messaggio cito testualmente Ho scritto il 19 agosto 1982, la scienza dello spirito, la scienza della materia, i due aspetti manifestativi e sperimentativi dell'intelligenza onnicreante, due valori complementari in perfetto equilibrio che stabilizzano l'evoluzione delle specie, umane e intelligenti aggiungo io, nel processo manifestativo del continuo divenire. L'eccesso o il difetto dell'uno e dell'altro aspetto comporta disequilibrio, destabilizzazione, incompetenza collaborativa e reazione. 1982, difetta la scienza dello spirito e per conseguenza una carica degenerativa della scienza materiale priva come dell'alimento primario della virtù, cioè sarebbe la coscienza etica della scienza, aggiungo io, che scaturiscono dai valori costruttivi dello spirito portatori di frequenze stabilizzatrici. Ora, il messaggio è un po' criptico perché i messaggi che Eugenio scrivevano erano un compendio gigantesco di comunicazioni di una scienza che nel nostro mondo non esiste, che è proprio la scienza dello spirito. Il messaggio dei fratelli del cielo, degli extraterrestri, dice che la scienza dello spirito e la scienza della materia devono stare in perfetto equilibrio. Ora, il discorso del mercato alviano è un discorso, ovviamente quando parliamo di mercato stiamo parlando di alta finanza, di denaro, non stiamo parlando del mercato del pesce o del mercato del fruttivendolo. Stiamo parlando dell'alta finanza che di fatto è quella che regola oggi la vita umana in tutto il pianeta, determinando delle situazioni che sono l'emblematica e specifica condizione che il messaggio paventa. C'è uno spaventoso disequilibrio di forze economiche laddove una sparuta schiera di esseri umani, il 5%, possiede da sola una quantità spaventosa di ricchezza, quindi poche centinaia di uomini possiedono una spaventosa ricchezza che è superiore a quella di tutti gli altri abitanti del pianeta. Il che comporta un enorme aumento della possibilità di controllo grazie a questa immensa quantità di ricchezze che loro hanno sulla società civile, quindi sulla scienza, sulla politica, sulla religione, sugli eserciti, eccetera. Quindi siamo in quella situazione lì, c'è un disequilibrio spaventoso dovuto al denaro. Ora, il problema alviano che si genera con una situazione economica di questo tipo è questo. Lo scoiattolo, quando deve costruire il suo nido o la sua tana, non va in banca come facciamo noi per costruirci la casa a chiedere un mutuo. La natura gli rende disponibili gratuitamente tutte le cose che gli servono per vivere. Il concetto, quindi, è che il denaro, essendo un prodotto artificiale innaturale, che ha uno sviluppo lineare infinito a fronte di una condizione circolare dell'ambiente naturale per cui le risorse si devono riprodurre ogni anno, il denaro di fatto è un tossico che porta invariabilmente, essendo lui alla fine il dio che domina il valore supremo della società umana, porta di fatto la società umana a impazzire. Il concetto stesso, da noi accettato come fatto normale, che bisogna pagare per vivere, per mangiare, per bere, è un concetto folle, assolutamente innaturale, artificiale, promulgato dai padroni del denaro, cioè da quelli che creano il denaro dal nulla, promulgato per immettere fin da bambini una manipolazione mentale nelle persone, tale per cui noi accettiamo che un prodotto che non costa nulla, artificiale, che è il denaro, si frapponga tra me, che sono la creatura, e la creazione che mi dà da vivere, quindi se io non ho denaro, io muoio, non posso mangiare, non posso bere, non posso curarmi, non posso istruirmi, non posso vestirmi, non posso fare nulla, senza denaro si muore. Il che è un paradosso assurdo, perché? Perché se il denaro è un prodotto umano, perché non ce n'è mai abbastanza? Se l'economia, così come ci dicono i soloni dell'alta finanza, i vari Mario Monti, o Draghi, o dinosauri, fai tu, ci dicono che tutte parole complicate, ma il problema è molto semplice. Come può esserci scarsità di denaro, se il denaro lo creiamo noi? Poi ci raccontano le favolette, perché se no ci sarebbe l'inflazione, tutte chiacchiere, tutte frottole, per nascondere una cosa che adesso ti piacerà molto, Alviano. Scendiamo. Pensa, è stato quindi 13 anni alla guida della Banca Nazionale Inglese E Josiah Stamp scrive Il moderno sistema bancario crea denaro dal nulla Il processo è forse il più sbalorditivo trucco da prestigiatore che sia mai stato escogitato. Il sistema bancario fu concepito nel crimine e generato nel peccato invito gli ascoltatori ad andarsi a leggere la storia di Jekyll Island dove i banchieri fecero un complotto per appropriarsi e rendere privata la Banca Nazionale Americana, la Federal Reserve che è una banca privata, così come lo è l'ABC. Privata vuol dire che è di qualcuno quindi non è del pubblico quindi il privato ha in mano il pubblico e il pubblico è il popolo che è stato privato della sua sovranità della sua sovranità i banchieri posseggono il mondo se glielo si sottraesse ma si gli si lasciasse ancora il potere di creare denaro con un tratto di penna riuscirebbero ad avere abbastanza denaro per ricomprarselo perché lo creano dal nulla quindi non gli costa niente gli si sottraesse invece il potere di creare denaro tutti i grandi patrimoni scomparirebbero compreso il suo di questo signore qui di Josiah Stamp rendendo il mondo migliore e più felice e poi lui fa questa frase e la rivolge al popolo a noi a me a te a tutti coloro che ci stanno ascoltando ma se tu accetti di continuare a essere schiavo delle banche cioè del denaro lascia che le banche continuino a creare denaro e a controllare il credito quindi senza denaro Josiah Stamp un grande banchiere dice che la scomparsa del potere di creare denaro renderebbe il mondo migliore e più felice lo si sapeva già 90 anni fa sì voglio ricordare un altro grande americano Henry Ford è un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario perché se accadesse credo che scoprierebbe una rivoluzione prima di domani mattina poi è accaduta una cosa terribile questo processo alviano che comunque da quelle epoche in cui parlava Josiah Stamp c'era una parte ancora di sovranità una parte ma con l'ingresso dell'euro il primo gennaio 2002 si è conclusa una parabola durata decenni per noi sfortunatissima cioè il cambio giuridico il cambio dello stato giuridico della moneta la moneta è di fatto perché questo status è stato cambiato senza che noi lo sapessimo la moneta è un istituto di diritto pubblico perché il popolo è sovrano secondo la Costituzione con l'ingresso dell'euro la moneta è stata resa un istituto di diritto privato infatti se voi andate a prendervi tutte le cartamonete da un euro tranne le monete di metallo che hanno un valore infimo rispetto alla massa monetaria e ancora le stampa le coni allo stato italiano tutti i biglietti cartacei di euro hanno il simbolo di copyright cioè c'è il cerchietto con la c dentro ma è piccolo 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 non lo vede nessuno cercatelo e lo troverete orbene noi sappiamo che il copyright è quella legge che tutela le opere di ingegno la musica le opere d'arte quindi il denaro essendo una creazione privata deve avere il simbolo di copyright quindi ci viene detto che noi abbiamo un debito pubblico adesso non so se sia ancora 2400 miliardi è una balla è un altro inganno se noi ci prestiamo gli euro dalla banca centrale e dai mercati finanziari il debito degli italiani su tutti gli euro che circolano in Italia tutti quanti c'è tutta la moneta che esiste in Italia è debito ma a loro ai banchieri che creano il denaro dal nulla non interessa rientrare in possesso del denaro a loro gli interessa il giochino che con la scusa del debito ci tolgono la proprietà dei beni quindi ci tolgono il suolo ci tolgono le case ci tolgono l'acqua tra poco ci toglieranno le mutande e poi la pelle cioè gli unici veri valori nella vita di una persona per stare bene il denaro lo ribadisco è un prodotto artificiale come una cartigenica che è anche più utile per certi aspetti quindi noi per vivere non abbiamo bisogno di denaro la parola economia viene dal greco albiano e significa le cose di casa ora genericamente una famiglia un po' sana di mente il papà o la mamma non si mettono davanti alla cucina all'ora di pranzo per far pagare l'ingresso al pranzo ai figli la cosa naturale è che i genitori recuperano risorse e le condividono equamente all'interno della famiglia questo deve fare l'essere umano è la cosa più banale semplice del mondo però questi astuti personaggi attraverso la manipolazione dei medi se li sono comprati tutti perché chi stampa denaro del nulla può comprarsi tutto infatti si sono comprati tutto attraverso delle multinazionali teste di legno società fantasma offshore ma di fatto si sono comprati tutto quindi controllano tutto sono dappertutto e immettono nei circuiti formativi educativi informativi immettono una sottile pervasiva manipolazione mentale per farci accettare come normale una condizione che è assolutamente da fuori di testa da gente ad rinchiudere in manicomio e buttare via la chiave quindi il problema è che loro attraverso questi sistemi alviano ci tengono divisi non ci viene data una vera scienza ma ci viene data una scienza totalmente asservita e funzionale al loro potere quindi loro mantengono la società divisa e dividi e timpera e quindi la società e gli stati non unendosi non raggiungono l'unico scopo ovvio uniamoci tutti e produciamo scusa estraiamo risorse creiamo inventiamo cose case oggetti e poi ci serve solo un istituto che controlli l'equa distribuzione dei beni alla popolazione mondiale quindi il territorio che fa le pesche più belle del mondo le produrrà per il resto del pianeta il territorio che fa le mutande più belle del mondo le produrrà per il resto e ce le dividiamo questo crea un'efficienza sistemica inimmaginabile allo stato attuale delle cose determina il massimo risparmio dei beni primari perché non c'è nessuno spreco di materia prima fatto solo per tenere alto il livello del prezzo di mercato perché sappiamo bene quante tonnellate di derrate alimentari vengano buttate via mentre la gente muove di fame quindi se noi eliminassimo i banchieri e il denaro noi avremmo risolto una marea di cose che vanno male in questo mondo e ci salveremo perché a causa di questo tossico chiamato denaro noi abbiamo ridotto il sistema circolare dell'ecosistema del pianeta Terra in fin di vita infatti oggi i nostri scienziati ci dicono che entro il 2050 massimo il 2050 il pianeta morirà adesso io vorrei chiedere ai signori creatori del denaro dove andrete cosa ci farete delle vostre ricchezze del vostro denaro una volta che la madre Terra nemmeno a voi darà più di che vivere perché anche loro anche questi signori mangiano bevono e devono respirare quindi la loro condizione è una condizione folle apparentemente però alviano perché l'umanità si trova dentro un processo di selezione che spiega molto bene Gesù Cristo nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo venite benedetti dal Padre mio Cristo sta parlando agli eletti prendete possesso del regno preparato per voi fino dalla fondazione del mondo quindi è in atto un processo selettivo che sta determinando una polarizzazione etica dell'umanità da una parte gli immorali e gli egoisti gli arrivisti gli indifferenti gli ignavi da un'altra parte quelli che invece hanno amore per la vita e questo processo selettivo alviano è controllato da forze potentissime che vengono dal cosmo e dalle varie dimensioni di questo l'umanità non sa nulla per cui oggi tutte le idee tutti i tentativi che ci sono anche di gruppi che io conosco che conosciamo che stanno cercando una soluzione ma se mancano di questa informazione non capiranno non arriveranno a comprendere in che ambito ci troviamo realmente perché il popolo è mera utopia che possa unirsi alviano non ce la faremo siamo troppo divisi e il livello di coscienza di consapevolezza è infimo dice un extraterrestre a un altro extraterrestre giovane un discorso che riporta il contattista americano George Van Tassel l'extraterrestre giovane che sta venendo con l'extraterrestre anziano per la prima volta sulla terra gli chiede dice ma è possibile che i terrestri abbiano realizzato tutta questa follia cioè che si siano ridotti in questo stato e quell'anziano gli dice se avessero avuto un'intelligenza almeno paragonabile a quella di uno scogliattolo non si troverebbero in questa condizione che vuol dire in una forma un po' ironica e sarcastica all'extraterrestre anziano che lo scogliattolo non mette in disquilibrio il suo ecosistema lo mantiene in equilibrio non consuma non accumula più ghiande di quelle che gli servono non distrugge gli alberi che fanno le ghiande quindi se noi avessimo avuto l'istinto di uno scogliattolo che conserva l'ambiente che lo nutre e lo fa vivere in equilibrio noi saremo benissimo invece siamo schiavi di una elite di mentecatti criminali di fuori di testa che però stanno assolvendo un compito secondo il volere di Dio alviano e cioè loro stanno polarizzando nell'ala negativa tutta quella umanità immeritevole di far parte del regno perché vorrei ricordare che l'onnipotente in quanto onnipotente non ha bisogno di chiedere il permesso o fare richieste in comune o al governo l'onnipotente dà solo ordini proprio perché è onnipotente quindi anche Satana riceve ordini e deve obbedire vorrei ricordare quando Gesù ha fatto i suoi 40 giorni nel deserto e Satana lo ha tentato a un certo punto il Signore gli ha detto senti ma io sono il Signore di tuo vattene via e il diavolo se n'è andato perché Dio comanda da ordini e allora ti ha chiesto per favore vattene ora qualcuno che mi ascolta dirà ma che c'entra l'economia il Vangelo perché Cristo cari amici primo è un personaggio storico secondo non era un prete non ha fondato nessuna religione Cristo è un maestro che è venuto a insegnare una scienza esattamente la scienza dello spirito che è quella scienza che spiega come funzioniamo noi noi non siamo il corpo e chiudo il ragionamento al viano poi mi fai la domanda noi non siamo il corpo noi siamo lo spirito che transita lo spirito eterno un tempo intelligente oggi c'ho molti dubbi che transita temporaneamente un certo numero di anni se ti va bene se ti va male meno all'interno di un corpo ma poi ce ne andiamo ora il concetto stesso alviano di religione è un concetto un altro concetto da fuori di testa ma se tutta l'urbe vivente mondiale di questo pianeta compresi i pesci gli elefanti i funghi tutto tutto ciò che vivo compresi i ravanelli le carote i sedani se tutto nasce cresce invecchia e muore ma che ci vuole a capire che c'è una sola legge naturale ordinatrice e se c'è una sola legge naturale ordinatrice per tutte le cose viventi ergo c'è un solo creatore ora che questo sia vero lo determina un fatto ovvio nessuno di noi vorrebbe invecchiare e morire ma la legge ci impone di farlo quindi la legge è fuori dal nostro controllo e anche gli atei loro malgrado che non credono in niente quindi anche loro siccome stanno sui credo sono una religione la più stupida tra l'altro perché mi dovrebbero spiegare gli atei come fa la natura a creare un corpo umano dove abbiamo geometria sacra sequenza di fibonacci proporzione aurea geometria frattale perché sono ignoranti cioè non conoscono certe cose cioè ignorano quindi se esiste una sola intelligenza ed unica legge ergo le religioni sono così come ci vengono insegnate un altro sistema o Gesù stesso non siano esistiti assolutamente sono esistiti ma il loro messaggio è stato preso dagli esseri umani stravolto e distorto e insegnato a vantaggio del loro dominio questa è la verità terribile di come sta combinato nel nostro mondo ecco allora intanto hai risposto alla prima domanda che la legge di mercato in realtà è una legge fuori di natura per cui non è una legge perché la natura è un piano superiore l'uomo non può fare leggi le leggi sono quelle che dominano il sistema vivente naturale naturale la legge di gravità l'elettromagnetismo la forza nucleare debole quelle sono leggi l'uomo fa norme codici regole e decreti punto non sono leggi sono emozioni umane che tra l'altro ledono il sacrosanto diritto alla vita di qualsiasi essere viventi compresi gli animali e gli alberi e i vegetali questa è la verità l'uomo non può fare leggi al contrario l'uomo con le sue norme codici regolamenti e decreti distrugge la vita del pianeta questa è la verità terribile ok